Rita Consorte, 35 anni, è l'esempio di come si possa essere presa per i fondelli dalle istituzioni. Era titolare di una pensione IMSS da 260 euro fino al 29 luglio del 2009, quando ci furono i controlli dell'IMSS contro i falsi invalidi e ci fu la decisione di riprendere questa pensione. A quel punto lei ha fatto ricorso al giudice del lavoro, che tra l'altro le ha dato ragione in prima istanza. L'IMSS ha ricorso e nel prossimo febbraio si discuterà questo ricorso. Ma quel che spiace è che non trovandosi più questo sostendamento, seppur minimo, Rita si è rivolta alle istituzioni e l'hanno un po' rimbalzata. Sì, come una palla. Che cosa le hanno promesso? Ma niente, io sono stata più volte accompagnata anche dal consigliere Marco Alessandrini del PD e nonostante tutto anche dalla Marcheggiani, da Paola Marcheggiani, dal presidente Testa, il quale più volte mi ha espresso il suo impegno, cosa che finora io non ho mai visto nulla. Sindaco di Pescara? Io per quanto riguarda il sindaco di Pescara non ho mai avuto la possibilità di averci un dialogo vero e proprio. In virtù di questo mi sono rivolta dal vice sindaco Berardino Fiorilli, dove lui mi ha ricevuto semplicemente una sola volta, poi di che tutte le volte che io andavo per tentare di parlare con lui, la segretaria si prendeva il mio numero di telefono e poi non mi richiamava nessuno. Ricordiamo che Rita era invalida, era dobbiamo usare il passato perché non sappiamo se lo sarai anche in futuro al 75%. Adesso io continuo ad essere invalida perché adesso quello che conta è la carta del giudice, quindi il giudice mi ha riconosciuto un'invalidità del 76%, quindi attualmente quello che conta è quella carta lì. E io so che per legge le categorie protette avrebbero bisogno di essere dalle istituzioni, ma a me mi dicono sempre che c'è la crisi, c'è la crisi, ma guardate un po' lì, guardate. Grazie a tutti.